Ciao a tutti mici micini, io sono Valentina e oggi faremo la snack challenge Andrò a provare insieme a voi questi snack provenienti dal Giappone, dalla Russia, dalla Francia, dalla Romania e da altre parti Iniziamo! Allora vi spiego le regole Praticamente ci sono tutti i bigliettini di questi snack Io andrei a mescolare, aprire e vedere che cos'è Infatti adesso mi è venuto snack rumeni Gli snack rumeni quali sono? Aspetta, togliamo questi Andiamo a provare Pugniamo la pallice Spostiamo gli altri intanto, così ve la faccio vedere meglio Che strano d'odore, non l'ho mai sentito Andiamo a provare, importante il gusto Buoni! Sono di pallatina pop corn Hmmmm Sono buonissime, ve le consiglio, le faccio vedere È andri buone Mmmmm Ma c'è qualcosa dentro? Andiamo a provare Ma che carino, ma guardate, è un aeroplanino, dai ma che bello, andiamo a provare dei altri, andiamo a pescare, io sono curiosa di assaggiare aglio, coca cola alla vaniglia, questa, dolcissima, sentiamo, ma buonissima, è dolcissima, succo al leechis, a me il leechis non è mai piaciuto, ok, quasi, meno male che esiste la cannuccia, uno, due, tre, no, è buono, no, è troppo buono, non lo so, sembra latte, figo perché sia cocco, però non sembra cattivo, non mi piace, no, è schifo, che è schifo, lo mettiamo qui, mancano pochi ingredienti, patatine piccanti, patatine piccanti, patatine piccanti, non vedo l'ora, ok, è il momento della verità, è troppo buono, sono buonissime ragazzi, stanno di ketchup, formaggio e salsa piccante, andiamo, patatine orientali, credo siano queste, no, queste qua, sono queste, apriamo queste patatine, ragazzi, sono patatine, sono cialde di gamberetti in realtà, sono stranissime, sono di gamberetti, sono anche di limone, sono buonissime, e poi questi sono gamberetti tipo sushi, quindi sono buonissime a forza, mancano tre snack, cos'è, oh oh, no, no, ok, non vale più, patatine giapponesi, queste qua, in realtà non sono patatine giapponesi, sono tipo queste, però sono, oh sì, sono cialde di gamberetti sempre, ragazzi, queste sono simili, ma sono sempre cialde di gamberetti, però qua dentro hanno la paprika, andiamo a assaggiare, io adoro la paprika, sono buonissime, sono buonissime, piccantissime, buonissime, due ingredienti, aiuto, no, alga giapponese, alga giapponese, questa si usa per fare sushi, ed è buonissime, però senza niente, senza riso, senza soia, senza salmone, fa schifo, sa di carta, non sa di niente, sembra buona, stanno di pesce, ma non mi siete a carte, guardate, puoi fare un regalo, l'ultimo ingrediente quale sarà mai, le patatine prodotte in macedonia, mmm, e queste sono i più carini di tutti, perché sono cosa di stellina, a raffel e alla luna, andiamo ad aprire, sono le pedali ridotte, sono buonissime, c'è un misto tra patatine Francis e Dixie, mmm, veramente buone, ok, adesso ripartiamo davanti, spero che questo video vi sia piaciuto, vi prego di iscrivervi e lasciare un bellissimo commento, ciao!